Nell'elenco dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di città che legge per il biennio 2022-2023 c'è anche quello nisseno. Ben 718 i comuni che si sono qualificati avendo i requisiti necessari e che hanno presentato la candidatura a seguito dell'avviso pubblico di giugno. Il centro per il libro e la lettura di intesa con l'Anci intende promuovere e valorizzare con la qualifica di città che legge, si precisava nell'avviso, le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. E poi ancora, attraverso la qualifica di città che legge, si intende riconoscere e sostenere la crescita socioculturale delle comunità urbane, attraverso la diffusione, si legge, della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ancora una volta, quindi, il capoluogo nisseno ottiene questa qualifica. Caltanissetta ha in questi giorni ottenuto la qualifica di città che legge, ma di che cosa si tratta? Si tratta di un riconoscimento che conferisce il CEPEL a tutti i comuni italiani che hanno stipulato con i cittadini, con le associazioni, con tutti coloro che sono interessati alla promozione della lettura, un cosiddetto patto per la lettura. Quindi è un bellissimo riconoscimento per la nostra città, perché avremo la possibilità di partecipare a tutti i bandi del CEPEL, che sono appunto riservati alle città che hanno questa qualifica, ma soprattutto è un bellissimo punto di partenza per programmare attività di promozione della lettura, sempre all'insegna, della inclusione e della massima diffusione dell'amore per quello che un libro può trasmetterci. Grazie.